Di fronte a questa scritta, ce n'era un'altra del medesimo tenore. Eccola. Soddisfazioni che devono bastare a quelli che non hanno niente. Henry Overkerk, conte di Grantham, che siede alla Camera dei Lords tra il conte di Jersey e il conte di Greenwich, possiede una rendita di centomila sterline. E' suo il palazzo Grantham Terrace, tutto costruito in marmo e famoso per quello che chiamano il labirinto dei corridoi. E' un vero capriccio che contiene il corridoio carnato in marmo di Sarankolin, il corridoio bruno e lumachella di Astrakhan, il corridoio bianco in marmo di Lani, il corridoio nero in marmo di Alabanda, il corridoio grigio in marmo di Staremma, il corridoio giallo in marmo di S, il corridoio verde in marmo del Tirolo, il corridoio rosso, metà in screziato di Bohemia e metà in lumachella di Cardona, il corridoio blu in turchino di Genova, il corridoio viola in granito di Catalogna, il corridoio lutto venato di bianco e di nero in scisto di Murviedro, il corridoio rosa in cipollino delle Alpi, il corridoio perla in lumachella di Nonette e il corridoio di tutti i colori, detto corridoio cortigiano in breccia arlecchina. Richard Lothar, visconte di Lonsdale, possiede Lothar, nel Westmoreland, dall'accesso sfarzoso con una scalinata che è un invito per i re ad entrare. Richard, conte di Scarborough, visconte barone di Lumley, visconte di Waterford in Irlanda, Lord, luogotenente e viceammiraglio della contea di Northumberland e di Durham, città e contea, possiede la doppia castellania di Stansted, quella antica e quella moderna dove si ammira la superba cancellata a semicerchio che circonda una vasca dell'incomparabile getto d'acqua e inoltre possiede un castello a Lumley. Robert Darcy, conte di Holderness, possiede il dominio di Holderness con torri baronali e sconfinati giardini alla francese dove passeggia con la sua carrozza a sei cavalli preceduto da due scudieri, come si conviene a un pari d'Inghilterra. Charles Beauclerk, duca di St. Albans, conte di Burford, baroni di Heddington, gran falconiere d'Inghilterra, possiede un palazzo a Windsor, vicino a quello del re e non meno regale. Charles Baldwin, Lord Robertis, barone truro, visconte Bodmin, possiede Wimpole a Cambridge, formato da tre palazzi con tre frontoni, uno ad arco e due triangolari. Il viale d'ingresso è fiancheggiato da quattro file d'alberi. Il nobilissimo e potentissimo Lord Philip Herbert, visconte di Cardiff, conte di Montgomery, conte di Pembroke, signore pari inesorabile di Kendall, Mermion, St. Quentin, Churland, curatore delle miniere di stagno nelle contè di Cornovaglia e di Devon, visitatore per diritto ereditario del Collegio di Gesù, possiede il meraviglioso giardino di Wilton, con le due vasche a fasce d'acqua più belle di quelle che il cristianissimo re Luigi XIV aveva a Versailles. Charles Seymour, duca di Somerset, possiede Somerset House sul Tamigi, che eguaglia Villa Panfili a Roma, notevoli sull'imponente cammino i due vasi di porcellana della dinastia Yuan, che valgono mezzo milione di franchi francesi. Nello Yorkshire, Arthur, Lord Ingram, visconte Irving, possiede Temple Newshon, dove si entra per un arco di trionfo e dove gli ampi tetti piatti fanno pensare alle terrazze moresche. Robert, Lord Ferrars di Chartley, Borcher and Lovain, possiede nel Leicester Shire Stoughton Harald, con un parco a pianta geometrica che raffigura un tempio con frontone. Gli appartiene anche la grande chiesa dal campanile quadrato, davanti allo specchio d'acqua. Nella contea di Northampton, Charles Spencer, conte di Sunderland, membro del Consiglio privato di Sua Maestà, possiede Althorpe, a cui si accede per una cancellata a quattro pilastri, sormontata da gruppi marmorei. Lawrence Hyde, conte di Rochester, possiede nel Surrey New Park, splendida per il suo acroterio scolpito, per il cerchio di tappeto erboso coronato di alberi, per le sue foreste che sullo sfondo mostrano una montagnola arrotondata ad arte e sormontata da una grande quercia visibile da lontano. Philip Stanhope, conte di Chesterfield, possiede Bradby nel Derbyshire, con un superbo padiglione dell'orologio, falconieri, vivai, bellissimi laghetti allungati, quadrati, ovali, e tra questi uno a forma di specchio, con due zampilli altissimi. Lord Conwallis, barone di High, possiede Bramhall, un palazzo del XIV secolo. Il nobilissimo Elgernon Keppel, visconte di Molden, conte d'Essex, possiede Cache O'Brie, nel Hertfordshire, un castello a forma di grande H, dove si tengono partite di caccia molto ricche di selvaggina. Charles, Lord Osselstown, possiede Dowley nel Middlesex, a cui si arriva attraverso giardini all'italiana. Jane Cecil, conte di Salisbury, a sette leghe da Londra, possiede Hartfield House, con quattro padiglioni nobiliari, la torre campanaria al centro e la corte d'onore, la strecata in bianco e nero come quella di St. Germain. Il palazzo, che ha una facciata di 272 piedi, è stato costruito sotto Giacomo I dal gran tesoriere d'Inghilterra, bisavolo del conte che regna attualmente. Vi si può vedere il letto di una contessa di Salisbury, di valore inestimabile, interamente fatto con quel legno brasiliano che è una panacea contro i morsi dei serpenti e che viene chiamato Mil Hombres, cioè mille uomini. Edward Rich, conte di Warwick e Holland, possiede Warwick Castle. Nei suoi camini vengono bruciate querce intere. Nella parrocchia di Stephen Hawkes, Charles Sackville, baroni Buckhurst, visconte Cranfield, conte di Dorset e Middlesex, possiede Knoll, grande come una città, composta di tre palazzi allineati uno dietro l'altro come schiere di fanti, con dodici pigne in scala sulla facciata principale e una porta sotto il maschio a quattro torri. Thomas Tyne, visconte Weymouth, barone Worminster, possiede Longleat, che ha quasi tanti camini, lucernari, chioschi, garitte, padiglioni e torrette, quanti ne ha Chambord in Francia, che è proprietà del re. Henry Howard, conte di Suffolk, possiede a dodici leghe da Londra il palazzo Odd Lane nel Middlesex, che per grandezza e maestosità è di poco inferiore all'Escorial del re di Spagna. Nel Bedfordshire, Resthausen Park, che è piuttosto un paese chiuso da fossati e da muraglie, con boschi, corsi d'acqua e colline, appartiene a Henry, marchese di Kent. Hampton Court, nell'Eerford, col possente maschio merlato e un giardino delimitato da uno specchio d'acqua che lo separa dalla foresta, è di Thomas, Lord Coningsby. Grimstorff, nel Lincolnshire, con la lunga facciata tagliata dalle alte torrette a palo, con i parchi, gli stagni, le faggianaglie, gli ovili, le radure erbuse, i filari di alberi, le passeggiate, le fustaie, le aiuole ricamate di fiori e acquadretti e le lusanghe come grandi tappeti, le praterie per le corse e la maestosa spianata circolare, dove le carrozze fanno carosello prima di entrare a palazzo, appartiene a Robert, Conte Lindsay, Lord ereditario della foresta Walham. Up Park, nel Sussex, castello quadrato con due padiglioni simmetrici e torri campanaria ai due lati della corte d'onore, appartiene all'onorevolissimo Ford, Lord Grey, Visconte Glendale e Conte di Tankerville. Newnham Paddocks, nel Warwickshire, con due vivai quadrangolari e una pigna a quattro comparti di vitro, appartiene al Conte Dimbay, che è Conte di Rheinfeldon in Germania. White Hain, nella Contea di Bourke, con il giardino alla francese, dove ci sono quattro pergolati ben potati e una grande torre merlata, affiancata da due alti bastioni di guerra, appartiene al Lord Montague, Conte di Ebingdon, che è padrone e barone anche di Raikot, dove sulla porta principale c'è scritto Virtus Ariete Forzior. William Cavendish, duca di Devonshire, possiede sei castelli e tra questi Chatsworth, su due piani del più bell'ordine greco e, inoltre, sua grazia possiede il Palazzo di Londra, dove c'è un leone che volta il d'orso al Palazzo del Re. Il visconte Kinolmiki, Conte di Cork, in Irlanda, possiede Burlington House, in Piccadilly, con vasti giardini che si estendono fino ai campi fuori Londra. Possiede, inoltre, Cheswick, dove ci sono nove splendidi edifici e, infine, Londensport, una costruzione recente accanto a un antico palazzo. Il duca di Beaufort è al tempo stesso Marchese e Conte di Worcester, Barone di Ralgan, Barone Power e Barone Herbert di Chepstow. John Hulls, duca di Newcastle e Marchese di Clare, possiede Bolsover, che ha un maestoso maschio quadrato e Houghton, nel Nottingham, dove, al centro di una vasca, c'è una piramide conica a imitazione della Torre di Babele. William Lord Craven, Barone Craven di Hampstead, possiede, nello Worcestershire, la residenza Combe Abbey, dove si può vedere il più bel getto d'acqua d'Inghilterra e, nel Berkshire, due baronie, Hampstead e Marshall, con le cinque lanterne gotiche incastonate nella facciata, e Esdon Park, castello in mezzo a un crocevia di strade dentro una foresta. Lord Linneus Clancherly, Barone Clancherly a Hunkerville, Marchese di Corleone in Sicilia, deve il suo titolo di pari al castello di Clancherly, edificato nel 914 da Edoardo il Vecchio contro i danesi e, inoltre, possiede il palazzo di Hunkerville House a Londra e l'altro di Corleone Lodge a Windsor. e otto castellanie, una a Braxton, sul Trent, con un diritto sulle cave d'alabastro, e poi Gundraith, Humboldt, Morikamp, Trent Wardraith, Hal Carters, con il suo pozzo meraviglioso, Pellinmore con le sue torbiere, Rekulver, vicino all'antica città di Wenyeko, Vine Canton, sulla montagna Moil Henley. E ancora 19 borghi e villaggi con i loro balivi e tutto quanto il paese di Pencet Chase. Queste proprietà fruttano a sua signoria 40.000 sterline di rendita. I 172 pari che regnano sotto Giacomo II godono complessivamente di una rendita di un milione e 272.000 sterline all'anno, pari all'undicesima parte delle entrate inglesi. Di fianco all'ultimo nome, quello di Lord Linnaeus Clan Charlie, si leggevano queste parole scritte da Ursus, a ribelle, in esilio, beni, castelli e proprietà sotto sequestro. Ben fatto!